Ciao, sono Dome Gulfaro, volevo leggervi l'incipit di Con la paura ci mangiamo la notte, romanzo di Raffaella, musicò, edito da pagina 1 nel 2019, naturalmente lo trovate alla libreria di Monza, Virginia, ecco, e questo è il capitolo 1. Che vestito avrebbe dovuto scegliere? Il completo marrone, forse, sarebbe stato il più adatto a essere messo dentro una bara, ma erano in poche ad averlo visto vestito così da vivo e Giulia si chiese se lo avrebbero considerato troppo pretenzioso. Aprì l'armadio e lo vide subito. Coperto da un cellofan trasparente, probabilmente della tintoria. Mise la mano sotto la plastica, il tessuto era ruvido, come si usava una volta. Era stato di suo suocero prima che arrivasse a suo marito. Pietro non l'avrebbe mai più rivisto, mentre invece le pareva che la sua voce sarebbe rimasta a lungo dentro la casa. C'era anche il suo odore dentro l'armadio. Lo richiuse e si guardò intorno. Anche i mobili della stanza da letto erano dei suoceri neri e lucidi. Lei aveva scelto una bara di frassino, la più semplice possibile. Pronunciò la parola bara in un sussurro e la immaginò sottoterra, al buio, nell'umidità. Avrebbe voluto bruciare quel letto e quei comodini, anzi avrebbe dovuto seppellire Pietro su quel letto a cui era così affezionato. Sorrise all'idea di lui, vestito di tutto punto, sdraiato con le mani intrecciate sul petto, calato con quel catafalco nero dentro una buca enorme. Avrebbero anche potuto lasciarlo lì, così, a godersi il cielo. E vicino alla terra, che gli piaceva molto, avrebbe potuto tenere tutto sotto controllo da lì. Non sarebbe stato messo a tacere, sarebbero rimasti tutti sotto il suo occhio vigile, perché lui amava dirla questa cosa, che non pensasse di sfuggirgli, anche se dormiva. Andò verso il letto, si sedette, diede un colpo al comodino che si rovesciò con tutta la lampada, mandandola in pezzi. Lo sportello si aprì, non ne uscì niente. Cosa ce l'aveva a fare se non ci conservava niente?